A partire da oggi venerdì 2 settembre e fino a domenica 4 settembre si terrà presso piazza mediterranea nell'area ex mercato l'agropoli international street food un suggestivo festival internazionale dello street food ad ingresso gratuito all'insegna della gastronomia e di tanto buon cibo volte a valorizzare prodotti e piatti tipici della migliore tradizione culinaria italiana ma anche straniera infatti la fiera prevede la presenza di numerosi stand sia italiani che stranieri nonché di svariati birifici artigianali a tal proposito i track food e gli stand italiani e stranieri saranno divisi in tre zone una zona track food una zona italiana e zona internazionale ed anche una zona beverage con la presenza di birifici artigianali la manifestazione inizialmente era prevista dal 26 al 28 agosto ma a causa della tragica vicenda che ha interessato le aree del centro italia colpite dal terremoto è stata spostata